Ciao a tutti e benvenuti al Parco dei Principi di Parigi. Fase a gironi della competizione, ogni punto può essere importante. Le squadre mi sembrano molto concentrate. Vero Fabio, mi sembra siano scesi in campo con la giusta convinzione. Ottima visione di gioco da parte del difensore. Tiago Silva. Essien. Lavezzi. Probabilmente cercherà il fondo per effettuare tre persone. Bellissimo colpo di testa. In qualche modo riesce a spazzare via la palla. El Sharawi. Grande parata. E' davvero coraggioso l'intervento. A faccia avanti per rubare il pallone all'attaccante. Lavezzi. Cavani. La mette fuori. Lavezzi. Perde il controllo della palla. Vuole servire subito ai compagni più avanzati. El Sharawi. Il passaggio viene intercettato. Lavezzi. Rete di passaggi. Tempestivo intervento del difensore. Giocano bene. Zlatan Ibrahimović. Ottima deviazione. Come ci è arrivato. Libera il portiere. El Sharawi. E questo gol fa mutolire lo stadio. Con questo gol si portano in vantaggio. Vediamo come si comporta ora il Milan. Nonostante si sia trovato la palla sul piede sbagliato. Non ha deluso. Grande gol. Zlatan Ibrahimović. Abate. Essien. Balotelli. Nulla da fare. Possono ripartire gli avversari. Tiago Motta. Sta provando. Cavani. Zlatan Ibrahimović. Intuisce tutto e vince il contrasto. Essien. Balotelli. Cavani. Zlatan Ibrahimović. Sono veramente troppe le disattenzioni difensive. Buon intervento in copertura. Bel passaggio in avanti. Zlatan Ibrahimović. Essien. Sien. Lavezzi. Zlatan Ibrahimović. El Sharawi. Essien. Balotelli. È riuscito a recuperare la palla. Adesso può trasformare l'azione in offensiva. Recuperano un importante pallone sulla fascia. Vantaggio. Fischio dell'arbitro che segna un calcio di punizione. E c'è un avvicendamento fra i pali. Entra in campo il portiere di riserva. Fabio, non mi aspettavo davvero questo cambio. Lavezzi. Ottima concentrazione del reparto retrato. E con questo sono di nuovo pari. Un bellissimo tiro. Rasoterra angolato. Punteggio di nuovo in parità. Sarà interessante vedere come cambierà l'impostazione tattica della gara nei prossimi minuti. Abate. Balotelli. 1-1 il risultato al termine di questo primo tempo. Non abbiamo visto molte occasioni da gol. Questa partita verrà decisa da qualche giocata del singolo. Chissà con quale spirito le squadre torneranno in campo. Essien. Hanno una possibilità in avanti. Balotelli. Goal! Una rete a dir poco magnifica. Che velocità! Una ripartenza da manuale. Lavezzi. Cavani. Respinge il tiro. Balotelli. Lavezzi. Cavani. Difesa. L'arbitro fischia il fallo ma non prende i provvedimenti disciplinari. Pochi centriveti più in là e sarebbe stato rigore. Ed ecco che arriva il primo cambio per loro. Un cambio che mi aspettavo. Potrebbe essere una mossa azzeccata. Ha colpito la traversa! Ottimo stacco di testa. Lavezzi. Vediamo come deciderà di giocare questa palla. Ibrahimovic. Ibrahimovic ha segnato! Splendido gol di Ibrahimovic. Niente da fare per il portiere. Una gara davvero interessante con le due squadre che non sembrano disposte a concedere nulla all'avversario. Il sienno. Indietreggia nei giocatori del Paris Saint Germain. Cavani. Intervento giudicato falloso ma non da ammunizione. E il tiro finisce fuori per la disperazione dei tifosi. Sta giocando davvero un'ottima partita. Zlatan Ibrahimovic. Si chiudono benissimo. Grande conclusione appena sopra la traversa. Troppa pressione su di lui. Ha cercato di inserirsi ma ha calciato alla cieca. Sono andati vicinissimi al gol del vantaggio. Rimesso a lunga del portiere. Grande impatto sul pallone. Lavezzi. L'arbitro ha ravvisato il fallo nonostante sia venuto lontano dal pallone. Da questa posizione potrebbero anche segnare. E il regista della squadra deve avere la palla in questo momento. Fallo su un giocatore senza palla. L'arbitro ci ha pensato un attimo. Poi ha deciso di non ammunirlo. Il difensore riesce ad arrivare per primo sul pallone. Abate. E Sien. Balotelli. Zlatan Ibrahimović. Balotelli. Ottima palla lunga. El Sharawi. I difensori sono saliti e l'hanno messo in offside. Lancia lungo dalla propria area. Bravo il difensore a non farsi cogliere impreparato. Conclusione pericolosa ma fuori misura. Stavolta non è riuscito a trovare la porta. El Sharawi. Intercettato. Rete. Rete. La squadra ospite è andata in rete. Restano pochi minuti da giocare. Questo gol potrebbe essere decisivo. E adesso che sono riusciti a portarsi in vantaggio dovranno fare in modo di gestire il meglio risultato. E adesso che sono riusciti a portarsi in vantaggio. Zlatan Ibrahimović. Palla intercettata. Palla fuori. Ci sarà una rimessa laterale. Tiago Silva. Ottimo tocco. Palla oltre la linea sarà rimessa con le mani. E Sien. Abate. Grandissima parata. Niente da fare per l'attaccante. La posizione era ottima. Doveva calciare meglio da lì. E il portiere mantiene la squadra in gioco. Ottima la palla giocata dal difensore. Due minuti di recupero che ci separano dalla fine di questa gara. Cavani. Appoggia di lato. Fantastico intervento in scivolata. Brutto fallo. Zlatan Ibrahimović. E riesce a conquistare un calcio di punizione. Riesce a mettere giù il pallone con il petto. Lavezzi. Ibrahimović. Poli. Una prestazione di carattere. Hanno dimostrato di essere una solida compagine e di aver meritato il risultato. Strappare una vittoria proprio nel finale rappresenta sempre una grandissima soddisfazione. E' finita una grande partita. Un saluto da parte di Fabio Caressa.